La carenza di personale nell'istruttore ospedaliere Sarde è una questione che va risolta, anche attraverso azioni capaci di supportare gli operatori sanitari, nel momento in cui le prestazioni lavorative aumentano. Per tamponare l'emergenza, l'Ares ha fatto partire il maxi appalto da 9 milioni di euro per reclutare i medici in affitto, decisione fortemente contestata dagli ordini dei medici, dai sindacati, dal comitato per il dito alla salute. L'Ares ha deciso di destinare appena 1 milione di euro per arruolare medici da impiegare con i codici rossi e gialli. La restante cifra, 8 milioni, è dedicata ad ottenere medici che assistano i pazienti con gli altri codici. Si tratta di livelli di gravità medio-bassi che potrebbero essere seguiti agevolmente a livello territoriale. Aspettiamo una presa di posizione forte dai sindacati confederati e dei sindacati medici. L'esempio dei bambini all'oncologico di Cagliari che hanno corso il rischio di non poter effettuare terapie e mettere i catetere venosi centrali senza l'intervento dei carabinieri è emblematico della distanza che esiste tra istituzioni e cittadini, hanno affermato le rappresentanti del comitato. Regione provvida di interventi negli ultimi atti assunti dalla Giunta, molti a saziare richieste avanzate da tempo e rimesse ora in moto anche per l'approssimarsi della scadenza elettorale. Una circostanza del genere viene negata ma intanto fioccano l'attribuzione di contributi e finanziamenti a vario titolo che vanno ad incrementare un filone che si presenta inesauribile e quello a favore delle unioni dei comuni verso i quali il soccorso è mirato a completare progetti e programmi già avviati e quindi a saldare competenze professionali ad esempio dovute ad una platea di esperti mobilitati a vario titolo e che vanno quindi retribuiti. Diverso il discorso sulla fattibilità di quanto prodotto ma questa è materia che coinvolge altre responsabilità. Spunta anche un esteso finanziamento ai comuni per quanto riguarda la rigenerazione urbana che dovrebbe significare una estensione di interventi volti a rivitalizzare gli agglomerati urbani ed in particolare quelli aventi caratteristiche distinte in sostanza meritevoli di attenzioni particolari. Non si fermano neanche d'estate gli incontri dell'arma dei carabinieri con i più piccoli per accrescere la cultura della legalità. A tal proposito stamattina i carabinieri oristano ne ha incontrato i bambini del centro sportivo di via Ghilarza. Ai piccoli sono state illustrate le molteplici attività dell'arma a tutela della legalità. Inoltre sono stati coinvolti anche con esempi pratici nelle quotidiane attività che la sezione radiomobile svolge su strada e con vivo interesse hanno preso visione delle strumentazioni e dei materiali che i militari impiegano nel controllo delle persone e dei mezzi. Le attività finalizzate alla diffusione della cultura della legalità hanno fatto sapere dal comando provinciale sono un importante componente di educazione civica che l'arma svolge attraverso il proprio personale qualificato anche in favore dei più giovani. Giorni di tensioni e di trattative frenetiche per definire il quadro delle alleanze e questo soprattutto nella compagine del centro-sinistra. Dopo l'intesa tra il Partito Democratico di Letta, Azione e Più Europa di Calenda e Bonino e Articolo 1 di Speranza, l'accordo per la suddivisione dei seggi, il lavoro del segretario del PD è rivolto in particolare a estendere il quadro delle alleanze. E sono questi giorni febbrili, come si è detto, in quanto Letta cerca di attribuire una collocazione a Luigi Di Maio che chiede certezza per quella che ora viene chiamata diritto alla tribuna, ovvero candidature in collegi sicuri per lui e un gruppo di parlamentari che l'hanno seguito nella scissione dai Cinque Stelle. Sembra scontato il superamento del diaframma che si era creato con la sinistra di Fratto Ianni, mentre Letta ha lasciato aperta una porta anche per un eventuale accoglimento di Matteo Renzi, ma anche in questo caso si riproporrebbero le stesse situazioni che vive Di Maio. Marcia intanto apparentemente unito il centrodestra, mentre i Cinque Stelle confermano che correranno da soli. Si fa un gran parlare dello spopolamento della Sardegna, specialmente quella centrale, ed il conseguente effetto ciambella, ovvero l'aumento degli abitanti nelle zone costiere dell'isola. Ma è sempre così? Non dappertutto. Se prendiamo questa parte della Sardegna, considerando la regione costituita dal Margine, Plonargia, Montifero Occidentale, ovvero una zona con tre punte, Bolotta, Racugli e Liebosa, vediamo che non è esattamente la stessa cosa. Il territorio costituito dal 21 centri contava agli inizi degli anni 2000, secondo dati elaborati dal servizio civile del centro di Sardegna Solidale di Macomer, 42.865 abitanti. Nel 2022 la popolazione è scesa a 36.014, con 6.851 abitanti in meno, quasi a meno il 16%. Il centro che ha perso il maggior numero di abitanti è Macomer. Nel 2001 aveva 11.116 abitanti, nel 2022 9.346, 1.680 abitanti in meno, pari a almeno 15,1%. Alla fine degli anni 90 aveva sfiorato i 12.000. Per il capoluogo del Margine, la debacca è stata certamente determinata dal crollo del tessuto industriale. Agli inizi, tra industria tessile, birerie e grande distribuzione, si arrivava a più di 1.500 dipendenti, ma resineva in città anche molti dipendenti da ottana. Con un'economia più definita sul turismo, perde meno Bosa. Da 7.927 abitanti nel 2001, passa a 7.455, con una perdita di 472 abitanti, pari a quasi il meno 6%. Più severa è la perdita per il comune di Cuglieri, che pure ha un'economia basata sul turismo e agricoltura. Dal 2001 al 2022 si è passati da 3.116 abitanti a 2.547, 659 abitanti in meno, pari a almeno 21,1%. Con la speranza che il terribile incendio dell'anno scorso, che ha distrutto la quasi totalità degli olevetti, non aggravi la situazione. In tutti i centri è alto l'indice di invecchiamento della popolazione, ovvero il rapporto tra gli ultra 65 anni e i giovani da 0 a 16 anni. Si è anche drasticamente abbassato l'indice di natalità, ovvero il numero di nati, in rapporto alle donne fertili. Tutti i paesi della regione indicata perdono lentamente i abitanti. Eppure la zona, rispetto ad altre, è abbastanza fornita di servizi. Sono state confermate, anche per l'anno scolastico 2022-2023, le agevolazioni tariffarie per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha deciso l'Aggiunta regionale, con una delibera proposta dall'assessore di trasporti Giorgio Todde, che ha stanziato risorse pari a 3 milioni di euro, in aggiunta a quelle già previste di 13 milioni, per un totale di 16 milioni di euro. Si tratta di un'importante misura, spiega l'esponente della Giunta Solinas, che mira a favorire la mobilità sostenibile e a contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione e l'utilizzo del mezzo pubblico, da parte degli studenti di ogni ordine a grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale. Una misura, continua l'assessore Todde, che assume un ruolo fondamentale nell'attuale difficile congiuntura economica, contribuendo alla riduzione dei costi a carico delle famiglie e degli studenti. Gli studenti di ogni ordine a grado, con ISE familiare non superiore a 25.500 euro, al momento dell'acquisto dell'abbonamento personale mensile, integrato annuale, per tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagheranno solo il 20% del costo totale, usufruendo di un abbattimento del prezzo dell'80%. La stessa agevolazione è riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente, appartenente a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto, con reddito superiore al valore corrispondente ISEE di euro 25.500, pagheranno il 40% del costo totale dell'abbonamento, usufruendo di una riduzione del 60%. Mercoledì 10 agosto, presso l'Antiquarium Arborense d'Oristano, si terrà l'inaugurazione della mostra I Devoti Sofferenti di Neapolis, un centro nuragico che aveva relazioni di scambio con i Filistei, i Fenici, i Greci e gli Etruschi, tra il XII secolo a.C. e il VI secolo a.C. L'archeologo Raimondo Zucca rievocherà la scoperta effettuata nell'agosto del 1973. Decine e decine di frammenti, di statuette puniche, di devoti sofferenti, uomini e donne in udità rituale, lavorati a mano da artigiani del luogo, gridavano al Dio la propria sofferenza per essere guariti dalle malattie che contrassegnavano con le varie posizioni delle mani. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Oristano dell'Assessorato alla Cultura del Comune, potrà essere visitata dal 10 agosto al 30 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, il sabato e la domenica dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20, fino al 30 agosto. Il martedì, per il shopping sotto le stelle, la mostra sarà visitabile dalle 9 alle 14 e 30 e dalle 17 e 30 alle 23. Rapina stamattina nella filiale del credito operativo di Arborea di Donigala Fenuguedu, tre persone armate e mascherate hanno fatto irruzione nella sede della banca, mentre erano in corso le consuete operazioni di cassa. Presi i soldi, sono uscite dall'istituto di credito e si sono allontanate a bordo di un'autovettura. Il bottino portato via è stato quantificato in circa 700 euro. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Nell'ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, su richiesta dell'autorità prefetizia al Ministro dell'Interno, il pressore della Guardia di Finanza di Oristano è stato recentemente incrementato di otto unità provenienti dalla Scuola Ispettori Sovrintendenti dell'Aquila, moderno istituto di formazione del corpo oppresso, il quale le stesse si trovano attualmente in addestramento, quali i frequentatori del 92esimo corso Milano 45 II. In missione in servizio operativo o della predetta aliquota di pressorale al fianco delle fiamme gialle e oristanesi consentirà di far fronte alle maggiori esigenze operative connesse all'affluenza turistica tipica del periodo in corso. Nessun stop alla legge regionale 11 del 6 luglio 2022. La decisione della Sardegna di prorogare i contratti del pressorale assunto per rafforzare il nostro sistema sanitario durante la pandemia è perfettamente legittima. I medici e gli operatori oggi in servizio, i cui contratti sono stati prorogati solo alla fine dell'anno, continueranno la loro indispensabile attività. Lo dichiare il Presidente della Regione, Cristian Solinas, in merito alla decisione da parte del Governo di impugnare solo una parte della legge regionale 11 del 6 luglio. L'assessorato regionale della pubblica istruzione ha approvato l'elenco definitivo degli organismi storici ammessi in relazione all'avviso di richiesta dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo per l'annualità 2022. L'annualità 2022 L'annualità 2022 L'annualità 2022 L'annualità 2022 L'annualità 2022 L'annualità 2022 L'annualità 2022